Mentre invece Bologna trova dalla sua grande prestazione che ha avuto la voglia di fare ancora altre giocate e adesso non vorremmo finire, questo purtroppo non è una bella cosa quella che è accaduta non ho visto cosa ha scatenato Barnell che era nei pressi della panchina della Virtus mi auguro non ci sia di mezzo qualche ragionamento sul fatto che Abbas va a schiacciare in costo costa e questo non lo trovo molto No, non credo, credo che ci sia stato proprio semplicemente un possesso difensivo, come dire, normale della Virtus e c'è stato un contatto e poi nell'inseguire il pallone probabilmente nel corpo a corpo dei giocatori nella stanchezza sarà successo qualcosa, credo che sia soltanto questo Ah, ah, spinta, spinta di Barnell Grazie a tutti Grazie.